No, nei criteri il colore o la forma della compressa non è vincolante, ma se l'originetro è in compresse io non lo posso vendere in sciroppo come equivalente. Devo dare compressa per compressa, gocce per gocce, iniezione in tramuscolo per iniezione in tramuscolo. Poi il colore della compressa può differire perché si è scelto di usare un eccipiente che fa assumere una determinata colorazione, ma questo è irrilevante. Questo entra in un secondo livello di problemi, che immaginiamo una persona anziana, una persona con difficoltà cognitive, che è abituata a riconoscere le sue compresse anche dalla forma della compressa, dalle dimensioni, se c'è la tacchetta o non c'è, se la scatola ha quella forma piuttosto che un'altra e non imparerà mai il nome del suo principio attivo, ma sa che quella è la sua compressa. Allora potrebbe essere un elemento di confusione aprire una scatola e trovare delle compresse che hanno una forma differente, può pensare che non sia il suo farmaco o che magari sia l'altro quello che prende il pomeriggio e non la mattina, con il risultato a volte magari prende due volte nella stessa giornata la stessa pillola. Quindi questo è un problema di educazione al farmaco che però deve essere guidato a monte con informazioni del caso, con l'assicurazione del caso, se la persona ha delle limitazioni con qualcuno che lo assiste, che sia in grado di comprendere che il farmaco è sempre lo stesso, anche se la scatola ha un colore diverso, il nome sulla scatola può sembrare diverso.